quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore anzi il cantastorie 30 anni di vita canzoni viaggi persone storie appunto e ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'auditorio un parco della musica ennio muricone di roma incontro persone amici colleghi che per un motivo per l'altro per me sono state o sono importanti io sono daniele silvestri e questa è le cose che abbiamo in comune un video podcast targato fandango live signore e signori massimiliano bruno buonasera non te l'avevo detto che cosa si vedeva e non sono riuscito a metterne poca perché se me è una grandiosa scena mi hai tirato un tiro mancino come si suol dire e mi hai fatto pure commuovere aspetta un attimo che ora facciamo le cose ufficiali siamo dentro un breve talk perfino un podcast che ha un meraviglioso titolo ci sono voluti un bel po di autori per pensare una cosa così geniale ma devi sentire la sigla sentire la sigla fa cagare lo puoi dire seriamente no non fa cagare però lo stacchetto è vagamente san remese è un po' per far sentire al proprio agio l'ospite che così capisce che dopo sta sigla qualsiasi cosa va bene comunque signori questo che avete qui accanto a me oltre ad essere un bravissimo regista un bravissimo attore un bravissimo autore stasera forse pure un cantante ma questo è un altro discorso è soprattutto un vero amico forse uno dei più amici è salito su quel palco su questo palco in tutti questi giorni quindi sono molto felice di essere qui con te non sarà neanche facile perché ce ne abbiamo talmente tante di cose in comune che non so dove iniziate ho fatto una ogni tanto facciamo una specie di collage di immaginette che in qualche modo rappresentano queste cose in comune quindi ho messo però era una quantità infinita però visto che chi ci ascolta non sa di che parliamo la prima immagine che non tanti sanno a chi affidare forse è uno dei nostri primi punti di contatto anche cronologicamente Massimo Giangrande lui musicista straordinario nel 1997 io feci uno spettacolo insieme a lui cantavamo delle canzoni insieme e ho capito che lui aveva una sensibilità molto simile alla mia era un cantautore tempo dopo me lo sono ritrovato nella tua band un bel po' di tempo dopo un po' di anni dopo e lui è un cantautore secondo me molto sensibile molto particolare ha una voce molto simile a Jeff Buckley decisamente e insomma mi ricorda i miei vent'anni Massimo Giangrande ve lo consigliamo perché è un po' di nicchia ma ogni tanto vanno ascoltate le cose anche di nicchia e comunque con Massimo poi magari ne rifarleremo molto più avanti però avete fatto una cosa che comunque io non sapevo finché a un certo punto non me l'hai raccontata in quello spettacolo che era Silenzio si chiamava si chiamava Il Silenzio era uno spettacolo che raccontava le avventure di due ragazzi che avevano appena fatto l'esame di maturità e uno dei due poi morì nella strage di Bologna io avevo da poco comprato anzi mi sa che me l'avevi regalato il tuo disco, il dado e c'era una canzone bellissima che era La Bomba e io quindi ti telefonai e ti chiesi Daniele ma posso usare sta canzone? e lui credo che stesse facendo altro mi ha detto eh sì va bene va bene non ho nemmeno capito bene poi tempo dopo lo invitai era un bellissimo spettacolo come quasi tutti gli spettacoli il teatro di Massimiliano è stato secondo me abbastanza dirompente negli anni romani a parte che io ho conosciuto grazie ai tuoi spettacoli era una marea di persone un'altra l'ho messa lì in genere le cose private le tengo un po' più al di fuori ma in questo contesto non avrebbe senso mi riapri un attimo quella schermata per una volta lo faccio di citare anche la mia compagna Lisa Lelli che ho visto per la mia volta in un suo spettacolo che si chiamava Nessuno bellissimo spettacolo pure quello e anzi ti rubo l'occasione perché appunto non lo faccio mai per dire che all'epoca faceva l'attrice il primo spettacolo che ha fatto in assoluto è stato quello lì con te sì fece un provino strepitoso venne questa ragazza dall'Emilia Romagna e fece un provino pazzo dove ha accolto il personaggio ma allo stesso tempo aveva tirato fuori un'eregia e io alla fine del provino gli ho detto ma tu studi sempre così quando fai e lei ha detto no però sono molto motivata per questo ruolo io ho detto è tuo è tuo non te scalmana ma io la citavo anche per dire visto che non lo dico mai che visto che poi ha cambiato mestiere le scenografie che vedete sono opera di Lisa e di Federica Luciani e non è poca cosa per una volta andava detto poi aspetta vai fammi rivedere un attimo chi ci abbiamo beh poi c'è quel signore lì Pelatuccio Angelo Orlando ci è capitato di citare anche l'altro ieri con Valerio Mastrandrea perché poi siamo questa combriccola di amici degli anni 90 siamo riuniti in un'orrenda chat che spero non venga mai pubblicato di cui non verrà mai pubblicato nulla perché potremmo andare in galera credo tutti di cui non si può dire neanche il nome della chat è reato non si può dire ognuno di quelli presenti nella chat e sono la maggior parte dei nomi abbastanza anche importanti dicono e fanno delle cose in quella chat che penso di nessun altro compresi gli auguri di complanno che tendenzialmente sono insulti però è un modo di dirti ti voglio bene devo dire che quelle che ogni tanto metti tu in quella chat sono abbastanza incredibili comunque con Angelo Orlando che lui presenta nonostante ormai sia in quanto evasore andato a Barcellona a lavorare a vivere tutto vero con Angelo che è stato un altro genio lo è ancora perché come autore anche nelle prime cose che facevamo anche al locale abbiamo chiacchierato pure con Valerio di Casamatta Vendesi te lo ricordi al locale era un spettacolo strepitoso e lui grazie a lui noi due abbiamo lavorato come attori nello stesso film che era la cosa che ti stavo per dire che si chiamava Barbara un altro piccolo non dico gioiellino però partiva da un'idea geniale sempre di Angelo con questi due ragazzotti che erano magari non basta Andrea e Marco Giallini incatenati a un letto con questa fantomatica Barbara che non arrivava mai forse c'è pure un frammento di immagine oddio no però questo evitiamolo vabbè vediamo un istante ho aspettato troppo tempo troppo tempo questa me l'ha data lei due anni fa ho aspettato troppo sentite che bella visto che hai già le chiavi del mio cuore ti mando anche queste che sono le chiavi di casa mia puoi venire in qualsiasi momento per restarci tutta la vita o se vuoi solo un paio d'ore la lettera me la tengo per ricordo e forse è meglio così quando vuoi fare una cosa la devi fare subito se rimandi aspetti che che arrivi così per miracolo rischi di rimanere deluso era lui lui chi? Silvestri perché l'hai visto pure te? tu l'hai visto all'inizio pensavo che era caduto il poster ma poi ha camminato eh? si ha pure parlato parlato? non lo so io ho visto solo muoversi del movimento televisione era la televisione si 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 è spenta era la televisione è spenta sai cosa può essere Aldo? eh? che noi abbiamo ascoltato Silvestri tutta la notte no? e lui giustamente anche giustamente ci è venuto a trovare si è materializzato con cortesia certo può essere quello vabbè un applauso a Angelo Orlando per le sue follie che ci accompagnano girammo se non erro a Torino a Torino e c'è una scena del film in cui Giallini è arrabbiato perché sta legato al film tutto diceva no non c'è che mischio più niente con sto cazzo di Pino Silvestri ti chiama Pino Silvestri tu peraltro facevi che cosa eri? un ristoratore indiano indiano sì perché lui c'è l'immagine almeno perché non ho trovato la clip però era inquietante mi ricordo che esordivi con una tipo arac non lo so dicevo così ma la cosa bella è stata che sono proprio le parole le rime che poi non ho mai cantato aspetta aspetta nasce questo film perché stavamo al Goa a vedere uno spettacolo con le tue musiche due di Misiti insomma dove dove la notte a mezzanotte è qui esatto e Angelo Orlando viene e mi dice a me che pesavo già una piotta mi dice ma tu sei perfetto per fare l'indianino e mi dà sta sceneggiatura dove la descrizione del personaggio era un uomo esile virgola indiano virgola di circa 50 anni io ce n'avevo 26 e tu 27 28 e quindi ho detto ma sei sicuro sì sì tu sei perfetto lascia farla di Tascalia poi lo trasformiamo e io non dicevo una parola in italiano era tutto quanto in indiano che io ho fatto finta di imparare perché non lo sapevo però faceva ridere alla fine eravamo sempre gli stessi più o meno ci mischiavamo in queste cose qua mi sono fatto pure aiutare ogni tanto c'è un poveraccio che si chiama Jacopo che mi aiuta un poveraccio per come si ritrova a lavorare con me che mi cerca informazioni cose ovviamente quasi inutili perché in genere so più io di quello che può trovare in rete però ogni tanto qualcosa anzi quasi sempre qualcosa trova a un certo punto si è imbattuto in una adesso questa secondo me non vuol dire nulla probabilmente però mi ha incuriosito era un'intervista in cui tu stavi dicendo una cosa poi non l'ho messo pure quella ma l'intervista dice non ti ascolta e vada da un'altra parte tu gli stavi dicendo vediamo se per te ha un senso gli stavi dicendo che a 18 anni avevi visto una stella cadente ed espresso un desiderio poi stavi per dire il desiderio lei se ne va da un'altra parte e se ne dice te sai di che stavi parlando o è arabo per te non hai idea io non ho idea lo speravo un po' però ero curioso lo stesso penso pure che fosse una bugia può essere perché le interviste sono sempre degli slalom giganti tu non sai mai come stasera che cosa esce fuori dal cilindro di chi ti coinvolge e quindi certe volte la sai perché te chiedono una cosa sull'ultimo film e certe volte ti fanno delle domande per cui tutti devi arrampicare sugli specchi e dire hai un sogno nel cassetto che ne so io non mi ho mai chiesto se c'è un sogno nel cassetto però certo si è l'Italia campione del mondo che ne so e dici una cavolata quindi probabilmente sarà stata una bugia però invece uscendo un po' anche dai ricordi le cose in comune in realtà non lo so come ha iniziato lì ho visto Sergio Zecca per esempio in Viva l'Italia che la scena che abbiamo visto è un grandissimo film ed è secondo me una scena veramente strepitosa e si intravede non se non sbaglio a un certo punto sì perché Sergio era l'autista il collega di Edoardo Leo che è quello con cui hai iniziato giusto o no più o meno però all'inizio come sei diventato attore visto che se non ho capito male il rischio era diventare avvocato come tuo papà probabilmente sì sì è un insegnante a scuola illuminato ci portava a teatro il sabato pomeriggio costava 3000 lire al teatro Giulio Cesare che adesso è un cinema e io andavo a vedere questi spettacoli Giulio Bosetti i sei personaggi in cerca d'autore insomma le cose di Pirandello e mi sono appassionato poi ci fece fare un test attitudinale dove mi disse che rispetto al test io nella vita dovevo fare o l'artista o il politico veramente e sì e da lì nasce la figura di Berlusconi che ha unito diciamo la clownerie al personaggio politico però mi ha colpito questa cosa tant'è che a 18 anni mi sono iscritto a un corso teatrale dove il mio insegnante era Sergio Zecca che poi appare in tutti i miei film perché è un po' il mio insomma maestro ma anche porta fortuna ma questo che stiamo parlando di teatro e del fatto che tu abbia avuto un insegnante illuminato il teatro per quanto mi riguarda non so quanti sono d'accordo in questa sala è qualcosa di fondamentale intanto perché costruisce una palestra insegna perché ne abbiamo bisogno oggi più che mai dal mio punto di vista anche di recuperare una dimensione temporale diversa da quella a cui siamo abituati è uno dei pochi luoghi in cui dopo un po' te lo scordi forse che c'hai un telefono che c'hai dei ritmi diversi e io credo che noi ne abbiamo bisogno fisicamente i teatri chiudono e c'è un'immagine qua che ce lo dice chiaramente un'altra delle cose più recenti che ci ha unito perché la prima persona che è aderito a questa battaglia che stiamo facendo per salvare il teatro Edoardo di Filippo che sta insieme alla scuola Pasolini a pochi metri da qua in realtà dall'altra parte del Tevere il primo è stato Massimiliano è venuto anche l'altra sera quando abbiamo protestato e stiamo portando avanti ancora ma sarà difficile vincere questa battaglia io però scusate se approfitto non solo per ringraziare Massimiliano di far sentire anche la sua voce ma anche per dirlo pure a voi se per caso non lo sapevate c'è un posto che rischia di sparire per motivi ovviamente economici ma anche stupidi come difficilmente si potrebbe dire meglio incomprensibili quindi tenete alta pure voi l'attenzione perché le battaglie magari non si vincono ma sicuramente non si vinceranno mai se stiamo tutti zitti sta tutto lì vabbè scusa se ti ho no no sono pienamente raccordo utilizzato fammi rivedere altre immagini dai che mi ispiro da lì anche se ripeto vabbè poi ci ho messo Maurizio Filardo con cui io ho condiviso un pezzo di vita enorme e con cui io pure ho lavorato come musicista e come autore di musiche e l'ho conosciuto grazie a te e poi ho diventato l'autore di molte colonne sonore dei miei film e poi c'era Valerio Prea che con te ho lavorato mille volte ma ti ricordi che abbiamo fatto una volta insieme a Valerio ti ricordi? e mi ricordo sì perché era una serata se non vado errato a Benevento no a Caserta a Caserta a Caserta a Caserta a Caserta chiedo scusa ho sbagliato città e tu hai cambiato la scaletta una cosa come 180 volte negli ultimi stanti anni credo che i tuoi musicisti mi possano comprendere ecco e quindi io non sapevo come era Valerio era terrorizzato Valerio era terrorizzato io sono un po' più guascone però fu molto bello ma è sempre molto bello vedere come ti segue il pubblico rispetto all'input che tu dai perché citando il teatro che tu hai nominato prima secondo me nei tuoi spettacoli nelle tue canzoni l'aspetto teatrale è prevalente cioè si vede che c'è un gusto artistico che non è prettamente musicale ma anche teatrale e questa cosa è anche quello che mi ha fatto innamorare delle tue canzoni quando eravamo più giovani e io vi ringrazio io lo confesso vediamola ancora ma abbiamo quasi fatto però quelle immagini lì mi servono vai Luca si è licenziato Luca d'altronde era anche giusto che accadesse prima o poi Luca dimmi dimmi qualche cosa oh eccoci qua ce ne sono ancora due Paola Cortellesi ovviamente ci unisce però è una roba tua come di pochi altri perché ci hai lavorato un sacco tutto l'inizio di Paola penso che sia stato creatore perché è successo questo hai parlato di teatro e c'erano dei teatri piccolini negli anni 90 a Roma per cui io invitavo i miei amici e noi facevamo spettacoli al teatro Argo al teatro Colosseo altri teatri e un giorno al teatro Colosseo facevo uno spettacolo viene questa ragazzetta molto carina simpatica e mi dice complimenti ma ti posso invitare al mio spettacolo con i miei amici e lei faceva uno spettacolo con tutta la sua compagnia e a un certo punto cantava una canzone e ho detto ma nonna che voce e allora sono andato lì e ho detto senti ma sei bravissima reciti bene ma canti benissimo facciamo qualcosa insieme e da lì è nata un connubio che è durato teatralmente per dieci anni abbiamo fatto due spettacoli come coppia insieme con la regia di Furia Andreotti scritti da me e interpretati da noi due e poi ho avuto il privilegio di scrivere per lei Gli ultimi saranno ultimi che poi dopo essere stato un monologo teatrale che lei ha portato in giro per tre anni in tutta Italia è diventato un film diretto da me scritto da noi due insieme da me e Paola insieme a Furia Andreotti e Gianni Corsi ed è diventato uno dei film che ho fatto che amo di più dove secondo me Paola era straordinaria e dopodiché continuiamo a essere grandi amici adesso anche colleghi solo che lei è più brava di me questo non lo so so che ha fatto un film che è un piccolo lavoro ha fatto un film straordinario un gioiello anzi fatemi vedere l'ho fatto mentre c'era lei voglio rifare pure stasera siccome veramente i numeri che ha fatto col film sono qualcosa di straordinario Stefano illuminami un attimo la sala voglio sapere quanti di voi hanno visto C'è ancora domani cioè guarda che è una cosa impressionante non succede forse non so mi viene in mente un paragone grazie bastava questo facciamo un applauso a Paola e al suo meraviglioso film vabbè a proposito dei film questa tanto per per vederci solo l'inizio perché poi mi servirà invece dopo per un altro ospite uno dei tuoi film ne hai fatti tanti poi non so ti vorrei pure chiedere di quale sei più orgoglioso anzi te lo chiedo di quale sei più contento Viva l'Italia che hai mandato è un film a cui sono molto legato sono affezionatissimo al mio primo film che nessuno mi può giudicare dove Paola faceva una escort straordinaria e molto e e sono legato anche in ottica a Officine Pasolini perché in quel film è stata lanciata un'attrice che era Anna Foglietta che era al suo primo film bravissima e se avrete pazienza di rivederlo vedrete che c'è in una scena Edoardo Leo che fa una scena ed è stato un film che insomma poi il suo primo magari ruota protagonista l'ha fatto con me con Viva l'Italia dove faceva un bel ruota quindi c'ero molto affezionato e poi forse gli ultimi saranno ultimi perché era il mio primo film drammatico diciamo che è rimasto l'unico invece in questo film che non hai citato mi hai fatto comparire un ruota poi non ho mai cantato da solo dai non siamo soli ho chiamato tre amici qui da Dore Spranta ci danno la mano arriva i Sergio Leone proprio ma che cazzo ma che cazzo di Maglione c'avevo io vero va bene basta basta può bastare che serata che serata l'ultima cosa ultima immagine che c'è loro venivano dalle prove stavano provando il tour stavano per debuttare col tour e sono stati fino a un'ora prima credo a casa tua non lo so a provare poi sono venuti così come stavamo io mi sorprese così poi c'è stata una scena divertentissima in cui poi dopo c'è pure Anna Foglietta c'è Anna Foglietta che canta meravigliosamente pure lei e l'ultima immagine in realtà poteva essere la prima visto che qui c'è il tuo papà che adesso non c'è più però la uso per chiederti perché so che intanto che papà probabilmente non voleva nemmeno che tu facessi l'attore immagino scherzi di dove era papà papà era calabrese e come tutti i padri calabresi sai che i calabresi non ti chiamano mica col nome tuo ti fanno la doppia chiamata io mi chiamo Massimiliano per mio padre era Massimiliano Massimiliano e vale per tutti i nomi Alessandro pure i nomi composti Gianluca nomi di donne Anna Maria Anna Maria i nomi stranieri Carla 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 e quindi mio padre c'aveva e quindi quando mi telefonava era sempre molto divertente perché poi i miei amici mi prendevano in giro perché c'aveva lui calabrese del 1935 non è che ci prendeva tanto con le lingue una volta stavamo a casa a vedere il festival e mio padre disse Anna Oxa è brava però si vede che canta in die break lui il telefono lo chiamava il Samsung e un'altra volta ha detto quando mi mangio l'hamburger ci metto maionese e sketch da ragazzino provava a insegnarmi il verbo essere im ur shes per non parlare di quando siamo andati andavo alle medie mi ha portato a New York e ha detto vedi Massimiliano questo palazzo si chiama Empire Stadt Building inoltre raddoppiava le finali delle cose per lui la capitale della Spagna era Magidi fumava le sigarette le chimmi cioè non riusciva a frenare sta consonante e comunque era un grande estimatore di calcio io e mio padre beh sì insomma mi ricordo tante partite viste amava tantissimo Maradona per via della sua diciamo estrazione politica perché da quando ha scoperto Maradona c'aveva il tatuaggio di Che Guevara sul braccio ha detto ah è forte Maradona mi piaceva insomma e quindi vedevamo le partite mi ricordo mia madre che portava ste pirofile dei polpette lasagne e cose noi che facevamo così per guardare la partita e una volta c'era questa finale di calcio Argentina Germania Italia 90 vi ricordate il mondiale per i più anziani e la partita fu rubata agli argentini e il pubblico romano fischiava Maradona e l'Argentina e quindi mio padre disse guarda guarda che fetenzia guarda il pubblico romano che batte le mani ai nazisti che diceva papà veramente sono socialdemocratici chiunque e fischiano gli emigrati argentini figli di italiani che hanno subito quello che hanno subito intanto si alzava col regime di Videla negli anni 70 con i desaparecidos mettete a sede papà per favore è una partita di pallone io l'ho conosciuto il papà è fedele la descrizione poi Daniele negli anni è morta mia madre mio padre si è un po' entristito della morte di mia madre l'unico modo che avevo per stare un po' con lui era vedere insieme a lui le partite di calcio quindi ogni tanto mi chiamava mio padre Massimiliano Massimiliano stasera Milan Real Madrid ce la vogliamo vedere insieme e dico papà magari devo uscire con una e papà vengo che devo fare e quindi è stata tutta una trafila diciamo di partite viste riviste finché una volta nel mi sembra 2009 Maradona che era il suo idolo nel frattempo dopo aver fatto il calciatore essersi drogato essere stato arrestato gli hanno sparato ha fatto di tutto è andato a Cuba è tornato in Argentina lo fanno allenatore dell'Argentina della squadra di calcio dell'Argentina e chiaramente come allenatore non era forte come giocatore era un po' meno quindi stenta e per la prima volta l'Argentina rischia di non andare ai mondiali e deve fare una partita a spareggio contro il Perù mio padre mi chiama Massimiliano eh papà lo sai che stasera fanno l'Argentina Perù sì papà ho visto ma la fanno a mezzanotte vogliamo vedere insieme e vabbè vado lì stavolta non c'era mia madre con i manicaretti le porto la pizza a taglio il cornetto algida ci mettiamo lì mio padre col pigiama e la vestaglia e io a vedere la partita di Maradona e di insomma dell'Argentina con Maradona allenatore ed era una partita epica dove Maradona decise di schierare centravanti dell'Argentina un certo Martín Palermo che era un giocatore un po' agé con l'età un po' grosso con un po' de pancia e che aveva un record tutto personale incredibile cioè era l'unico giocatore al mondo che era riuscito a sbagliare tre rigori nella stessa partita Argentina Colombia ha sbagliato tre rigori quindi l'Argentina rischia e tutta la stampa argentina era contro Maradona invece lui ha voluto mettere questo suo amico in campo e all'ultimo minuto della partita mentre io e papà stavamo lì a mangiarci le unghie e a tifare l'Argentina quindi a un minuto dall'eliminazione dell'Argentina dai mondiali arriva un cross della tre quarti la palla a culo colpisce o stinco de sto Martín Palermo così che lui manco capisce che cazzo succede e la palla rimbalzella plum 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 finisce in porta gol quindi mio padre si alza e esulta gol gol e io gol gol vedo mio padre che esulta lo guardo e vedo che gli scende una lacrima sulla guancia gli dico papà ma che fai piangi per Maradona e mio padre mi guarda e mi dice ma quale Maradona mi manca tua madre signori Massimiliano Bruno facciamo una sigla non la vuoi fare ce la fai adesso è finito questo podcast ci possiamo alzare ora sembra che me ne vado invece no 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 no